Piano, 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 Dagio, Dagio, mi raccomando. Petto in fuori. Eh, petto in fuori. Vieni dentro. Sì, va bene. Allora, sì, siamo prontissimi, 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 eccoci qua, se viene. Ecco, sì, però, un momento, che facciamo? Sempre la solida amena sigletta, quella... Ma certo, no? Eh, già, ma io che avevo detto che portavo a pego, era sì, dico, scalogna. Ma l'ho detto così. Comunque, comunque, se credete alla Iella, basta che la dedichiate a qualcuno a cui volete male. Pensate fortemente a qualcuno a cui volete male, eh? Fatto? Eh? Fatto. A chi, a chi, a chi l'avete dedicata, eh? A chi... Mascalzoni, parabocchi, delinquenti, salutate, salutate, ringraziate. Salutate, mascalzoni. Beh, insomma. Per me, sì, a me.